E' finita l'estate, il 18 settembre ci troviamo a Pescara e sono ricominciati gli appuntamenti di formazione dedicati ad architetti e progettisti firmati da Action Group Editori. Il workshop di info progetto di quest'oggi organizzato in collaborazione con l'ordine di architetti e paesaggisti della provincia di Pescara e dedicato all'involucro edilizio, all'isolamento termico ed acustico. Vediamo. Un po' come novità per i progettisti per oggi, noi presenteremo sia un sistema per gli esterni a risparmio energetico col capotto termico. Noi abbiamo una partnership con Universalis che rafforza il brand. Questo è importantissimo perché anche gli hotel, soprattutto gli hotel, gli impianti sportivi devono pensare all'utilizzo di prodotti durevoli nel tempo e che consentono un risparmio energetico. Ugualmente per gli interni andremo a presentare una pittura che sfrutta il processo di riflettanza e ha la capacità di far diminuire il consumo dell'energia elettrica. Per cui, pensando l'ingrande, quindi un hotel che ha diverse camere o un impianto sportivo che sfrutta l'illuminazione artificiale buona parte della giornata, credo che sia sostenibile due volte. Uno perché sono prodotti solvent free e secondo perché sicuramente può concorrere alla diminuzione della bolletta elettrica. L'apporto dei progettisti, noi abbiamo un team di 14 persone dislocate in tutta Italia che si occupa principalmente, essenzialmente, di dare consulenza tecnica ai progettisti. Siamo un'azienda che ha sempre creduto in questo tipo di mansione, che sono 28 anni che ha questo team in essere. Qui in Abruzzo abbiamo una persona dedicata per cui la nostra partnership è fortemente dedicata all'operatività dei progettisti.